Anche io come il dottor Matteo ero uno di quelli che in un certo momento sperava di esserci dentro, ma sperava di esserci dentro perché voleva dire che si stavano facendo delle indagini importanti a tutti i livelli nel rispetto di quel principio la legge è uguale per tutti. Oggi la mia speranza è quella di continuare ad essere in quel contesto, trascinando per i capelli qualche altro collega e quindi coinvolgere ovviamente di più la magistratura, un po' troppo burocratica nell'ultimo periodo, troppo attenta alle statistiche, a rispettare la definizione del procedimento nei termini esatti, giusto, però impegnandosi un po' di più su tante tante vicende. Ma ci mettere in mezzo anche in questo contesto molta, anche opinione pubblica, che deve essere informata costantemente di quello che accade, perché soltanto con l'impegno di tutti, di tutte le forze positive di questo Stato, noi il fenomeno continueremo a combatterlo, non so se a vincerlo perché non è semplice, ma certamente a combatterlo, che è un impegno ad oggi già di per sé molto molto importante.